Vattene la preparare dopo la portate inizia Immagini toccanti, momenti di gioia in un ambiente circondato dalla disperazione, dall'angoscia, dalla morte Dopo 17 ore dal sisma, la piccola Giorgia di soli 6 anni è stata estratta viva dalle macerie a Pescara del Tronto Grande la soddisfazione e la gioia dei Vigili del Fuoco per aver salvato una giovane vita Così come è immensa la disperazione per non essere riusciti a salvare la sorellina di Giorgia La bimba di 10 anni purtroppo non ce l'ha fatta dalle macerie, è stata estratta senza vita Giorgia ora sta bene, è stata operata nella notte all'ospedale di Ascoli Piceno I Vigili del Fuoco di Teramo, intervenuti nel comune di Arquata, nella sola giornata di ieri hanno effettuato oltre 50 interventi Complessivamente sono stati richiamati in servizio più di 30 Vigili del Fuoco, di cui 20 sono impegnati a Pescara del Tronto A Teramo città, oltre al crollo di alcuni intonaci, calcinacci e cornicioni nelle abitazioni del centro Il Santuario della Madonna delle Grazie, per il quale è stato disposto un immediato sopralluogo tecnico alla presenza tra gli altri del prefetto di Teramo e i tecnici della sovrintendenza è stato momentaneamente dichiarato inagibile Tre squadre di tecnici, insieme alla Polizia Municipale, stanno ancora effettuando una ricognizione dei danni in primo luogo negli edifici pubblici, ma anche su nuove segnalazioni di privati Danneggiati, così come dopo il sisma del 2009, i laboratori dell'Istituto per Programmatori Pascal ristrutturati con interventi antisismici dopo sette anni I lavori erano stati riconsegnati solo quattro mesi fa Tra i comuni maggiormente colpiti c'è Valle Castellana, dove si sono registrati in alcune frazioni crolli di case disabitate e già lesionate dal terremoto del 2009, nonché danni a chiese Ulteriori criticità sono state segnalate nei territori di Rocca Santa Maria, Torricella Sicura, Cortino, Montorio Alvomano e Isola del Gran Sasso Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che già nell'immediatezza dell'evento ha avviato le verifiche dei danni ha riferito che le richieste di sopralluogo sono giorno per giorno in aumento I cittadini terramani, già scossi dal sisma del 2009, questa notte sono rimasti in strada hanno dormito all'interno delle proprie autovetture, negli spazi di Piazzale San Francesco, Largo Madonna delle Grazie e presso il campo sportivo dell'Acquaviva All'ospedale Mazzini di Teramo, nella serata di ieri, sono giunti in elicottero due pazienti provenienti da Amatrice con traumi da schiacciamento toracico attualmente ancora in fase di valutazione medica Anche alla ASL di Teramo, così come nelle altre strutture sanitarie regionali, i pronto soccorso dei quattro ospedali provinciali sono allertati e pronti ad accogliere eventuali pazienti provenienti dalle aree terremotate All'ospedale Mazzini di Teramo